Silvio Berlusconi è ricoverato in terapia intensiva ormai da una settimana. Si rincorrono le indiscrezioni sul suo stato di salute, ma le parole che contano, finora, sono quelle di Alberto Zangrillo, primario del reparto di terapia intensiva del San Raffaele di Milano. Sono sereno primariamente perché stiamo facendo il nostro meglio. E sono sereno perché ho davanti un paziente che è anche un grande amico per me, non posso negarlo, e quindi c'è un grande coinvolgimento personale e, detto questo, lui è una persona che ci ha abituato a rispondere sempre al meglio e quindi anche di fronte a una patologia grave, in una situazione veramente difficile, lui sta rispondendo bene alle terapie. L'invito, fermo, è ad attenersi alle indicazioni che arrivano dai medici. Mi devo rifare al comunicato che abbiamo fatto due giorni fa, io e il professor Ciceri. È evidente che stiamo parlando di un paziente che ha un'età che tutti voi conoscete, con una patologia che è stata definita in modo preciso e con una complicanza che è stata definita in modo preciso. Da questo ne conseguono delle terapie mirate, delle terapie che seguono le linee guida, delle terapie condivise come deve essere sempre in medicina, quando si applicano delle regole della medicina ufficiale, quindi tese al raggiungimento di un obiettivo. Il nostro obiettivo è quello di poter raggiungere appunto la risoluzione del quadro clinico patologico. Dell'infezione polmonare o della partenzione che riguarda la leucemia? Ne parlo perché ne abbiamo parlato nel comunicato. È l'epifenomeno, la complicanza di un quadro patologico di altra natura che stiamo trattando nel modo migliore, come per tutti i nostri pazienti, cercando appunto di non lasciare nulla al caso. Ma l'evoluzione positiva secondo voi? Quello che si legge, quello che mi fanno leggere, quello che mi propongono, che ci propongono, a me, ai miei collaboratori, al professor Ciceri, sono delle cose assolutamente fantasiose che non rispondono a alcun criterio obiettivo. I medici seri si riferiscono soprattutto a una conoscenza obiettiva del quadro clinico del loro malato per cui noi abbiamo una strategia terapeutica molto precisa per cui tutte quelle che sono le fugue in avanti o le fugue indietro, quindi il pessimismo e l'ottimismo non rispondono a dei criteri di obiettività che sono quelli a cui un medico serio è chiamato.